Ma non era a scuola? Scusa, ti senti bene? Sì, cazzo, tutto fatto Eh, Lorenzo È passato di tempo, eh? Prima cosa, perché sei uguale a me? Oh, io sono entrato il tuo video fa So la tua coscienza, mongolo La mia coscienza? Ah, scusa, no, sai, cioè È normale finire a parlare con uno che è uguale a te Ha la stessa voce con un tizio lì che... Vabbè, c'è un pepe Sicuro di non essermi fatto roba varie, vero? No, perché se no spiegherebbe il perché di quel tizio uguale a me che sta tipo con Dicevamo Che cazzo fai? Parodia di Fabio Robazzi 40.000 viso 2.300, eh, bravo Bravo È quasi 700 dislike Le tre parodie fanno 2.000, 3.000, 4.000 viso al massimo Non va bene Dobbiamo crescere Sì, ma come? Cioè, hanno fatto tutto, tutto Hanno fatto tutto È semplice, è semplicissimo Ce n'hai tante di amiche fighe Basta che ne chiami una, sei a posto Sì, ma non voglio fare cose false Non le ho mai fatte, non mi piace È una cosa per il culo No, 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 no Che schifo Ste mentalità da persona resta Ma perché? Guarda, guarda, tutti quelli che hanno fatto video fake Stanno oltre i 100.000 Perché sono più furbi Tu invece solo a 28.000 fai schifo Sicuro di essere la mia coscienza? Beh, allora devi chiedere i like nei video Devi fare di più Vabbè, io ho proposto la live da 24 ore Sono arrivate a 820 Ne avevo chiesti 1.000 Di più Giusto 28.000 iscritti 10.000 like Perfetto Oh, ma non ci arriverà mai Capilli rosa 48 ore? Un mese Stai scherzando? I capelli rosa Io stavo dicendo per scherzare Non è che Rosa Rosa Questo Un giorno Un mese A registrare? Vai Su, forza, spiegati Cosa stai aspettando? Vai, 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 su Bella raga Big up E se questo video raggiunge 10.000 like Capelli rosa Per un Per un mese Mese Per un mese E E se questo video raggiunge 10.000 like Entro una settimana Farò una live da 24 ore 48 Idiota 48 Prego non ci dovete arrivare Per favore Per un mese Per un mese Per un mese Og